Pensavano di riuscire a piazzare tutte le banconote false in loro possesso nei negozi del Valdiano, ma una commerciante ha interrotto il loro piano criminoso, ha fiutato l'inganno e li ha spediti in carcere. Due venditori ambulanti di Braciliano, di 24 e 45 anni, incensurati, sono in stato d'arresto presso la Camera di Sicurezza della Compagnia di Sapri per spendita e detenzione di banconote false. Nella tarda mattinata di giovedì la signora Elisabetta, nota commerciante di Sanza, ha segnalato ai carabinieri della locale stazione la coppia di truffatori e lo hanno fatto mentre i due venditori ambulanti di frutta erano alla cassa per saldare il conto, certa che i soldi che le stavano consegnando erano falsi. I militari del maresciallo russo sono riusciti a bloccarli all'interno del negozio, proprio mentre cercavano di spendere 20 euro contraffatte. Nel corso della perquisizione personale sono saltati fuori 460 euro di banconote da 20 e 50 euro, tutte risultate falsificate. All'interno del loro mezzo invece c'erano gli scontrini dei negozi in cui erano già stati, così i carabinieri hanno potuto ricostruire tutti gli spostamenti dei due ambulanti e dimostrare che avevano già truffato altri esercizi commerciali di Sanza, in particolare una tabaccheria ed un negozio di articoli per la casa, dove avevano acquistato sigarette e batterie. La segnalazione della commerciante sanzese e l'immediato intervento dei carabinieri ha impedito che sul territorio venissero piazzate tutte le altre banconote contraffatte in possesso dei due ambulanti di Bracigliano. Le 20 e 50 euro false sono state poste sotto sequestro, verranno inviate presso la Banca d'Italia per il tramite del comando dei carabinieri antifalsificazione di Roma.